Quando Sam venne a chiedermi aiuto, non intendevo certo rifiutarglielo. Era sempre stato un lupo solitario e aveva bisogno di ricordare cosa vuol dire correre dei rischi per qualcuno a cui tieni. Dopo essersi divertito al monumento, Sam andò alla White Box. I ceffi che l'avevano rilevata avevano già ottenuto quello che desideravano e stavano portando via tutto. Ma a lui non importava. Lui voleva entrare. Purtroppo una struttura di contenimento MP a doppia parete non ha molti accessi. Ma a lui ne bastava uno. Allora, Vic, come faccio ad entrare? Cerca una struttura industriale di ricircolo dell'aria sul lato dell'edificio. Aprite un varco e cerca le attrezzature di monitoraggio al piano di sotto. Accedi alle riprese video e potrai trovare l'obiettivo seguente. Le ultime parole famose. Le ultime parole famose. , come faccio ad entrare cut out. Ciao, ciao. Come faccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E che anche noi lavoriamo per Galliard. Non può. Lei... L'ho appena fatto. E adesso scegli. Torni a lavorare. O sei il prossimo. No, lui no. Lui mi serve al sito bravo. Puoi prendere l'altro se ti serve. Finisci e abbia la fase finale. E il resto dell'edificio? Allo sgomberare. Cosa? Non può! È inaccettabile! Voi fate lavorare la cervellona. Io ho una pulizia da controllare. Alla prossima. Oddio, 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 oddio. Non mi uccida. Rispondi alla mia domanda. Poi si vedrà. A cosa stai lavorando che richiede questo genere di blocco? Contromisure e impulsi magnetici per la DARPA, soprattutto. Almeno all'inizio. Da quando è arrivato Robertson, il progetto è cambiato. Robertson? Cos'ha in mente? Intende dire a parte lasciare il laboratorio alla Black Arrow? Raccoglie i dati sperimentali e li elimina dai sistemi. Il lavoro ne risulta compromesso e lui è l'unico ad avere il quadro generale. Che mi dici di Lucio Scagliard? Cosa c'entra? È il mio capo. Il proprietario dell'azienda è quello che ha assunto, la Black Arrow e Robertson, per la sicurezza. Penso che sarebbe una buona idea soffiare quei dati a Robertson. Ma puoi farmi entrare? Certo, dall'ascensore. Bene. Fallo e poi vattene. Preferisco le stelle. Alcuni dei miei amici potrebbero avere bisogno di aiuto. Buona fortuna. Vi prego, aiuto! Cristo! Cristo! C'è un problema qui. C'è qualcuno qui. Dividetevi. Provaci ancora. Colpo non c'entra. Colpo non c'entra. Sam, so che sei nella White Box. Posso aiutarti? Avvertimi quando raggiungi il sistema di Robertson. Hai sentito tutto? Che sorpresa. Ma adesso dovresti avere buone notizie su Sarah. Ti ho chiamato perché ce l'ho in linea. Fai in fretta. Papà! Sarah, sei tu. Stai bene? Mi hanno detto che eri morto, papà. Che eri stato ucciso. A me hanno detto lo stesso di te, tesoro. Io... Tempo scaduto, Sam. Grim. Dopo. Hai un lavoro da fare. Abbiamo mandato una partita. Abbiamo mandato una partita. Sì. Eh! Ah, merda! Niente male Sì, cavolo Cazzo Attenzione ragazzi Vedo il sistema di Robertson da qui Parla Grimm Bene, ora rendi questa stanza un ambiente ostile per gli ospiti indesiderati Potresti dover lavorare a quel sistema per un po' E non voglio interruzioni Le mine remote saranno perfette Sono Sam Sono davanti al sistema di Robertson Perfetto, riesci a collegarmi? Come ai vecchi tempi Eccoti l'accesso e l'indirizzo del socket Grazie Preparo il download per scaricare tutti i suoi dati Contiene tutti i dati sull'EMP I miei analisti sono impazienti di consultarli Ok Sam, sono collegata Sto scaricando i dati Quindi ho finito qui? Non proprio Resta lì e sorveglia il sistema Se la connessione si interrompesse non potrei ristabilirla da qui Beh, devo impedire che qualcuno ci metta le mani sopra Credo il sistema può essere utilizzato per disattivare la connessione del sito Io resterei tagliata fuori Allora è meglio che mi prepari Ho compagnia Non puoi scappare, fatti vedere Andiamo a trovare Muoverci Siamo al venti Riu... Quaranta per cento Fatti Andate via Ci diverti Non puoi scappare, fatti vedere Non puoi scappare, fatti vedere Non puoi scappare, fatti vedere Va bene, fatti vedere Andiamo Forta coglione Vai dentro Ottanta per cento Ci siamo quasi Porta, fatti vedere Non siamo stupidi, bastardo Non ci entriamo Oh mio Dio Muovaci Via, via Pronti? Andiamo Tenetevi al riparo Via, via, via Non è... Tutto libero Non posso dire altrettanto Qualcuno ha rintracciato il mio download Non posso chiuderlo E se mi trovano la mia copertura salta E anche quella di Sara Da dove proviene? Credo dalla White Books Primo piano Secondo i progetti è un salone Forse un laboratorio per i test Sì, ci sono passato Ci tengono le EMP da testare Forse dovrai usarne una Fai quello che devi Ma blocca il collegamento Vic, sono nella White Box E mi serve una mano Una buona notizia Infatti Avrò attivare un EMP qui dentro Per tagliare un collegamento Quanto è resistente La schermatura esterna? Ludo al culo di un sergente istruttore Ogni apparecchiatura elettronica Nel artificio sarebbe quinta Fuori Nessun danno Ora muoversi Fai quel che devi Grazie Mi sembra di aver visto qualcosa là Aspettiamo che il contatto faccia una mossa Vediamo se hai del pegato Ma è che di poter stare di persa Oh, Michael Muoversi! Cosa? Preso di avere finito qui, Grimm. Vado a cercare questo Galliard di cui parlano tutti. Lucius Galliard? Lo conosci? Non direttamente, ma ne parliamo più tardi. Non cercarlo finché non lo farò io. Nel frattempo, un analista elaborerà i dati di Robertson. Grazie a tutti.